Amici sportivi perché stiamo vivendo il momento più bello del tennis italiano da questi ultimi anni perché il match point di Pistolesi nei confronti di Mats Vilander Fuori la prima Siamo solamente agli ottavi di finale ma il momento è davvero importante Se ne va, se ne va la volet Speranamente freddo Claudio Pistolesi va a dare la mano a Mats Vilander Il tempo di 2 ore e 31 minuti con il punteggio di 2-6, 7-6-6-2 Noi abbiamo speso molte parole per questo incontro Pistolesi sta cercando Tonino Zugharelli Eccolo vedete adesso non ce la va più a trattenere la soddisfazione Il successo, ecco che Tonino entra in campo a braccia Come ha sempre fatto qui a Monte Carlo e il suo pupillo Gli italiani lo salutano, anche il pubblico francese Tutto in piedi per salutare questa grande impresa Dobbiamo dire che Mats Vilander forse non era il numero 2 del mondo quest'oggi Cattive condizioni di forma hanno accompagnato